Sindaco, allora avete preparato un cartellone di eventi per quest'estate a Tollo davvero importanti. Abbiamo organizzato 34 appuntamenti che poi molti si svolgono in più di una giornata, quindi noi copriamo dei 60 giorni dell'estate, ne copriamo una quarantina. È un grande risultato. Dal 26 al 3 di settembre il Parco Pubblico, il Teatro all'Aperto, ospiterà una rassegna che si chiama Atollo. Ci siamo divertiti con il nome, che avrà la presenza di artisti di livello nazionale che piacciono soprattutto ai giovani, da Cisco dei Modena City Ramblers, a Tricarico, agli Statuto, ai Linea 77, a Andy dei Blue Vertigo e tantissimi giovani emergenti che si stanno facendo apprezzare in giro per l'Italia. Poi c'è anche una bella novità abruzzese, c'è il gruppo di Anemame, che è un gruppo di musica legata al territorio. Non vorrei dire popolare perché non sono un grande esperto di musica, ma sicuramente legata al territorio.